Pier Luigi Ingrassia, presidente della Società Italiana di Simulazione in Medicina e direttore scientifico del Centro di Simulazione di Lugano. Io vedo due grandi potenzialità del metaverso nell'ambito della formazione in sanità. Da una parte quella di poter sostituire e replicare il paziente. Oggi parliamo tanto di Digital Twin, l'omologo, l'analogo del individuo con le sue caratteristiche fisiche e le sue caratteristiche anche patologiche che vengono riprodotte in un contesto dove il sanitario, sia esso medico o infermiere, può addestrarsi a gestire quel singolo caso nella maniera più opportuna e più precisa, quindi parliamo un po' di personalize addirittura simulation. La seconda è la possibilità di connettere insieme individui professionisti che lavorano in ambiti diversi e distribuiti in territori diversi in un unico ambiente in maniera sinergica e contestualizzata.